Il contesto talvolta non può essere cambiato. Questo mondo, per esempio, tanto per essere concreti e realisti, non è il regno di Dio. Ecco perché la cattiveria, le difficoltà, la malvagità è così grande e manifesta. Non possiamo dunque aspettarci la perfezione in un mondo guastato dal peccato. Il regno di Dio, tuttavia, per la fede in Cristo è cominciato nei nostri cuori ed è un regno celeste, è un regno eterno. Noi siamo dunque oggi ambasciatori di questo regno che è nel cielo. Il mondo vuole farci entrare in guerra, vuole tenerci costantemente sotto una cappa di preoccupazione. Ma noi siamo uomini di pace e di serenità in Cristo Gesù. Non accogliamo le provocazioni, le ansie, non usiamo le stesse armi del contesto del mondo. Non dobbiamo dipendere dal contesto succubi e schiavi di esso, ma da Gesù Cristo, il quale ci ha liberati, ci ha affrancati. Non siamo dunque più schiavi. Lo schiavo non può essere felice per sua stessa condizione, ma noi siamo stati liberati dal Signore e di questa libertà ne vogliamo fare un'occasione di vita ringraziando Dio, nostro Redentore, perché siamo stati liberati. E di questo non dimentichiamocelo mai.